Un'altra magnifica giornata, oggi ride, si è svegliata così era dieci e mezza, è scesa poi, dov'è il mio accendino? Io che cazzo ne so, eh l'avevo messo lì, l'hai preso te, ho detto ma io non l'ho neanche visto, io ne ho uno, l'unico blu, Bic, eh, è camminare, tutti gli altri me li ha fregati lei, anche quelli da ricaricare, quindi eh non è neanche mio, è di Peppe, il suo nuovo boyfriend, poi ha cominciato, non sai neanche contare le balle, mi ha sputtato addosso, io ho cercato di alzarmi e di spingerla via, poi ho preso la stampella, lei invece ha preso la sedia, ho la sedia e mi ha buttato per terra, è nata una bella craniata sul pavimento, fa già bene che ho la testa bella dura, poi però per tirarmi su un quarto d'ora, e sei una puttana, sei qui, sei una zoccola, di tutto e di più, oddio, glielo ho detto che lei è una troia, poi da sdraiata vedo sotto la stufa qualcosa, gli dico guarda un po' lì, non è che eh sì, era proprio il suo accendino, che probabilmente uno dei due gatti ci ha giocato, ah no, lo so, ce l'avevi in tasca quando sei caduta, ti è uscito fuori e è finito lì, sì, sigurite, poi non trovava più neanche la stanghetta degli occhiali che doveva incollare, ma ce l'avevo in mano, dove è finita, me l'hai levata a te, poi vado a dar da mangiare a black di là, era lì per terra, nella lavanderia dove dovevo da mangiare a black, perlomeno riesco a chiuderlo, almeno il cane non li mangia la sua pappa, a Claudio non ha detto neanche niente perché è delinco, tanto poi mi dice eh, ma se tu che la provochi, come che la provoco, ma diammi i numeri, non lo so, io non ce la faccio più, spero che stanotte dorma fuori, almeno riesco a riposare in pace, perché veramente, altro che istinti, omicidi, è che non ho la forza di contrappormi a lei, e infatti mi ha fatto cadere a lunga distesa, vabbè, mi sono sfogata, ciao ragazzi.